Se giustamente sono aperti i negozi, la gente esce, io non so cosa si aspetta diversamente anche il governo, l'opinione pubblica, non faccio fatica a pensare, la gente esce perché esce. Io raccomando l'attenzione, io raccomando che si deve fare, lo dico molto onestamente, le pattuglie passano, indicheranno di fare gli interventi, soprattutto se ci fossero situazioni proprio fuori controllo, però è successo a Prato, è successo a Firenze, è successo a Bologna, è successo a Milano, a Torina, a Napoli, le fotografie che girano sono queste, la gente esce perché c'è l'opportunità di uscire. A tutti dico, si fa quello che si può fare, lo si faccia però nella maniera più attenta possibile, ci si mette tutti quanti, continuando l'attenzione che c'è stata, secondo me ci sta che davvero la fine di tutto questo sia moderatamente vicino.